Lo sportello del cittadino è a San Vito Taranto, viale del tramonto, siamo in estate, parliamo con Irene Lamanna, la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, di una situazione particolare. Alle mie spalle Lido San Michele, una struttura balneare che iniziò la propria attività due anni fa, ora non so per quali ragioni è chiusa e c'è uno stato di fatto di abbandono perché le erbacce crescono rigogliose e quindi io penso che l'appello a chi ha comunque la titolarità, l'appello, l'invito a provvedere affinché quantomeno la zona sia tenuta in ordine. Diciamo a rispettare magari quello che è previsto dalla concessione dell'area pubblica. Quindi la pulizia, la bonifica delle zone limitrofe all'arenile e quant'altro, ma al di là di questi aspetti che sono importantissimi, dispiace che una struttura davvero bella debba rimanere chiusa. E così dobbiamo fare turismo, cioè il turista passa, vede una bella struttura e dice toh, guarda, è chiusa, poi dà un'occhiata e trova le erbacce rigogliose. Taranto ha bisogno di ben altro rispetto a queste situazioni per promuovere e far crescere il turismo. Beh sì, intanto noi ci auguriamo che sia soltanto un ritardo sulla tabella di marcia e ci auguriamo che seppur in ritardo la stagione estiva per questo stabilimento inizi comunque. Non conosciamo i motivi del degrado, dell'abbandono e dell'attuale stato di chiusura dello stabilimento balneare. Sicuramente era stata un'opera che aveva donato un bigliettino da visita più decente al tanto martoriato viale del tramonto, di cui con te Luigi ne abbiamo tanto parlato dal 2015 fino allo scorso anno. Però, proprio come dicevi tu prima, è necessario, seppur per un qualunque motivo grave, meno grave, forzoso, ok, non ci sarà l'apertura di questo stabilimento balneare o non dovesse esserci, sarà comunque necessario per il rispetto della concessione stessa che è in essere, ma per il rispetto della città e degli abitanti del quartiere mantenere l'impegno comunque della manutenzione ordinaria dello stabilimento stesso. Immaginate le erbacce, gli insetti, quindi si crea una situazione di sporcizia specialmente, come dire, una situazione acuita ancora di più dal caldo e quindi l'ordinaria manutenzione, quella, il minimum, deve essere assicurato, garantito? Assolutamente sì, anche perché appunto andiamo incontro alla stagione estiva e qualora questo stabilimento non dovesse essere sorvegliato chiaramente si riproporranno gli atti vandalici e comunque le occupazioni che vedevamo prima del nascere di questa bellissima struttura. Siamo in conclusione, dottoressa Lamanna, però uno dice, vado al nord o in altre realtà balneari e la minima struttura, la minima possibilità di fare turismo viene sfruttata alla grande, qui abbiamo le perle e le perle sono abbandonate. È una riflessione sulla tarantinità. Sì, il problema di Taranto sono i tarantini. Ripeto l'espressione di una persona che ha fatto tanto per Taranto, stimabilissima il dottor Ghizzardi, che in una intervista concluse l'opinione su Taranto affermando che Taranto è una città difficile. Difficilissima, è stato contenuto il dottor Ghizzardi. Alla prossima!